Ho partecipato a questo interessante evento sui contratti EPC, Energy Performance Contract, con cui da alcuni anni stiamo affrontando l'argomento in regione Piemonte principalmente e anche con l'agenzia qui di Modena stiamo lavorando un interessantissimo progetto finanziato da un programma europeo che è InterregMed, il nome del progetto è Stepping e stiamo lavorando assieme per cercare di trovare delle forme comuni di sviluppo di questi contratti in area mediterranea. Il partenariato è sicuramente di valore e rappresenta alcune regioni sull'area mediterranea che vanno dal Portogallo fino alla Grecia, passando dalla Francia, Spagna e Slovenia. L'obiettivo di questo progetto è, oltre ad attivare nuovi contratti EPC per pubblica amministrazione dei nostri territori, anche quello di sviluppare conoscenza e promuovere questi contratti attraverso una maggiore conoscenza degli argomenti tecnici, giuridici e amministrativi anche attraverso attività di formazione e di divulgazione.